musica 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 ragazzi voglio farvi vedere giusto sta cosa cioè guardate bene questo ha creato più che dei AI dove c'è scritto questa IA modifica l'intervalle di attacco da 3 minuti a 6 perchè perchè mi annoiavano troppo con il nuovo costante spamming di truppe cioè già questo deve farvi capire e hanno pensato in altri 562 persone oltre a me che ci sono dei problemi con i trigger e con le condizioni che hanno messo il costante spam le truppe quando basterebbe inserire giusto un altro innanzitutto modificare quello del tempo e aggiungere un'altra condizione in più che sarebbe quella di quanta popolazione metti un limite e hai zero case non puoi spammare hai finito la popolazione cosa puoi spammare anche per dare un minimo di realismo ecco qua ecco qua questo è perché sento come che non avessi mai una possibilità di poter recuperare le risorse le truppe il tempo dopo ogni attacco a pure questo mia città perché sa sempre dove sei a tutti sempre e a tutti i livelli di difficoltà anche se non hanno mai esplorato la tua area e hanno messo pure che è stato messo dagli sviluppatori di attaccare sempre il player umano cioè pensa qua se i giocatori stanno giocando senza mod e vogliono avere una chance di sopravvivere a difficoltà o più contro un'intelligenza artificiale io la chiamerei deficienza artificiale devono raggiungere la seconda età nei primi quattro minuti e devono avere un piccolo esercito e oppure mura già pronte nei primi sei minuti per avere almeno una chance di sopravvivere cioè vi rendete conto di sta roba perché dopo che lì raggiunge la seconda età l'attacco comincerà subito assurdo cioè questo è veramente assurdo ciao a tutti amici bentornati siamo tornati su un editor perché devo dire che ho capito questa funzione quindi molto probabilmente il problema fosse io ma ciò non toglie che non ci sia un determinato tutorial adeguato perché dico che mi sono sbagliato perché ho capito come funziona questa traccia questa traccia inteso come impostazione del tempo perché prima di fare tutto io ho creato i punti in generale ho detto oggi adesso voglio fare una traccia in cui ci sono sei punti in cui la telecamera si deve muovere non sullo schermo dopo che ho messo i sei punti ho messo la durata ho detto quindici secondi giusto per mettermi e dopo ho messo aggiornamento tempo automatico e guardate qua zero due e mezzo cinque sette e mezzo dieci e mezzo e quindici e adesso vediamo assieme alla fine io sono anche stato un po' e lo ammetto senza problemi sono stato un po' non frettoloso perché quello che ho detto è giusto e non smetterò mai di dirlo ma diciamo che è una questione di di nuovo di imparare perché alla fine come ha detto anche mi sono dimenticato adesso il nome dell'utente che ha scritto quel commento perdonami perdonami c'ho c'ho il vuoto vabbè come ha detto un utente sotto un ultimo video dell'editor ha detto che giustamente siccome ci sono stati degli aggiornamenti perché questo engine è un engine di il bang engine è un engine che viene usato in Age of Empires 3 Definitive Edition in Age of Empires 3 in generale ma anche Age of Dodge originale quindi questa è la sua versione migliorata giustamente essendo io abituato alla sua prima versione è normale che abbia dei diciamo dei 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 giudizi un po' troppo forti non penso frettolosi al massimo perché comunque so fa no avendo esperienza su quella però è vero che bisogna 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 dargli il tempo bisogna dargli il tempo bisogna dargli il tempo e però devo ammettere che riuscire a farmo sta cosa se ci riesco sarebbe veramente orgoglato eh adesso la facciamo a steam perché voglio far vedere ovviamente adesso questa è la traccia 3 la chiamo traccia 2 e inizio no traccia 2 che segue ancora noi adesso facciamo sempre questi 5 punti allora inizio da qui faccio l'aggiorno avanzo così ah sbagliato aggiorno poi non fa niente ho messo 6 punti aggiorno andiamo un po' più sopra così e poi noi dobbiamo semplicemente scendere quindi Yuji fa così aggiorna e io mi abbasso completamente qua ma aggiorna e mettiamo qui poi anche il punto 7 che ci fa andare così allora noi mettiamo un tempo sempre di 15 secondi vedete e adesso è aggiornato e adesso noi lo vedremo assieme anche questo ho sbagliato scusatemi che stavo facendo da qua ok va bene così vi ho fatto vedere un po' di cose quello che non vi ho fatto vedere quello che mi hanno detto cioè questa è l'ultima cosa e poi finisco nelle impostazioni di età voi mettete età mitica classica mettendo questo tutte le tecnologie che sono state fatte prima sono completamente ricercate sono completamente ricercate però c'è un però arrivate anche da mitica voi avete i soldati a pesante tipo questi saranno a pesante con le armi in bronzo ma siccome sono a pesante unità pesanti quindi sono grigie e quindi ve lo faccio vedere ed essendo grigie avranno le armi grigie come se fossero inferiore ovviamente le mie unità che sono campioni essendo gialle avranno le armi gialle che sembrano di bronzo e quindi è un po' un po' un disguido io intanto vi faccio vedere che succede ah c'è questa animazione che te lo togli vabbè cioè guardate loro sono lancini su biga pesanti camminini corralzati e lancini pesanti ma essendo egizi no questi devono essere di colore giallo ma non perché i suoi egizi devono essere di colore giallo perché li vedo migliore con quel tipo di armatura e per farlo c'è un esempio set player status tech status che tipo qui no? legge loro sono scelti per vedere hanno le punte nelle armi gialle come se fossero in bronzo però un'arma inferno è più forte di quella in bronzo sono sono cacatine nel senso posso anche fa che metto i soldati a pesante e le armi in verro che tanto non si capirà mai però è per farvi capire e mentre loro metto ad esempio i soldati a campione quindi a scelto quindi all'ultimo grado questi a penultimo non è un problema cioè figuratevi però sai ma va bene alla fine non è un problema è solo a me per un semplice punto di vista visivo però guardate qua le animazioni si vedono tutte bene qua le animazioni queste qua funzionano e niente penso di avervi detto tutto sì penso di avervi detto tutto va bene va bene va bene va bene ragazzi questo è tutto vi ricordate quando in uno dei primissimi video se non fosse il primo di quando è uscito di ogni turn vi parlai del fatto che se avevate in il dnc che mostravano le vecchie foto dei vecchi dei in 4k cioè nel senso con le foto migliorate si vedeva una foto una foto sbagliata adesso hanno messo le foto questo è successo non in questo aggiornamento di che ne parlo in questo video ma in quello precedente e quindi ve lo volevo comunque far vedere che hanno fixato questa cosa e sono comunque molto contento voglio comunque rivedere questa cosa con aspettate ok perfetto funziona vabbè comunque sapevo che funzionava ma comunque volevo farvi vedere per finire il presegno che funzionava vabbè è uscito un aggiornamento 17.27932 gli sviluppatori ci hanno ascoltato e sono veramente contento perché vuol dire che tutto ciò che stiamo facendo ovviamente ovviamente non sono solo io ci stanno ci stanno ascoltando e ci stanno facendo capire che stanno veramente leggendo quello che gli stiamo mandando ovviamente è ovvio che non ero solo io penso che sia almeno un buon migliaio che glielo ha detto e vediamo subito quello che dice la pace di oggi mira a migliorare in sostanza la stabilità e a risolvere i problemi che ci sono incontro nella stabilità e nella performance del gioco stesso importanti cambiamenti in quanto al bilanciamento quindi penso degli dei che vedo qua all pantheon changes e poi general balance che andiamo a vedere ma soprattutto una campagna che è importante infatti qua c'è scritto alcuni cambiamenti significativi nella campagna quindi presumo la campagna principale e poi un ringraziamento per giocare per mandarci feedback che è una cosa molto importante perché è banale è banale però un conto è mandarti questo messaggino e non fare un cazzo un conto è mandarti questo messaggio però c'è un update e allora lì io sono veramente contento comunque e legge of mythology team ci ringrazio per aver reso Home Return un successo game stability e performance qua dice che hanno fixato un sacco di crash crash io devo essere molto onesto non ne ho avuti quindi devo dire che sono forse fortunato out of sync questo è probabilmente una cosa dovuta al multiplayer non l'ho ancora provato quindi non so dire però se c'è stato ed è stato già fixato è ottimo some situations quindi qualche qualche felice di situazione minor performance improvements attraverso il gameplay quindi dei miglioramenti quando giochi io ho notato infatti che quando si va verso come lo so come se fosse una sorta di cinque notte giorno o dopo tot tempo il gioco va in starter si blocca un po' giusto un secondo e poi torna a giocare riprende normalmente forse credo che abbiano fixato questo in questa frase che c'è scritto poi altri fix minori i giocamenti minori che arrivano dai nostri continui feedback bug splat reports questo è importante per ogni volta che c'è un crash si aiuta a migliorare la stabilità questo è importantissimo andiamo avanti organization esatto miglioramenti aggiornamenti per alcune stringhe di testo che non sono state tradotte perché anche in italiano c'erano delle stringhe di testo in inglese quindi credo che adesso siano state aggiornate aggiornate aggiornamenti miglioramenti no aggiornamenti addizionali ah presumo che abbiano aggiunto delle linee di testo vocale perché infatti nella missione 31 di Geoff Mitology questo Return il soldato non risponde sì signore ma risponde in inglese quindi yes sir credo che si riferisca a questo io dico prendo sempre un esempio dell'italiano perché poi in inglese è fatto normale infatti il doppiaggio in inglese è spettacolare ragazzi veramente spettacolare fixes bene hanno fissato l'agiment tracking quando sei offline mentre sei offline questo è buono per chi è sempre una ricerca degli agiment hanno fissato i criteri per questi tre agiment che non credo di averli fatti qua hanno fissato una cosa che succede quando finisce una partita oh questo sì che lo volevo sentire i battle cry che sono quelli che io di solito utilizzo anche nei miei contometraggi nelle mie cinematiche legge of mythology vengono usate quando ci sono i boost abilities tipo a cantos che urma online che suona il corno poi technology 3 accessibili da NearnTab ah bene ok piccoli aggiornamenti nel compendium ok questo è importantissimo ragazzi il passaggio del cielo funziona senza usare ant ant x ma hotkey sarebbe ant x prima infatti ho ho detto pure in un video di Mr.Catistos che ha fatto una recensione ve la faccio vedere in questo è il suo video eccolo qua nella sua recensione anche ne avevo scritto che effettivamente non funziona adesso funziona ah comunque un aggiornamento pesa un giga questo è importante perché è successo sia questo che questo mi sono successo ai vingagers che stavano tenuti attaccare cioè in movimento no? non andano più in uno stato di fermo e poi rimanere bloccati in alcune situazioni questo è importante perché mi è successo e anche questo è successo fixato quando i vingagers gli abitanti occasionalmente rimangono bloccati da una gran cassa di animali come è successo prima nella campagna di hit e block tutta roba buona questa è la parte più importante per me la campagna cambiamenti e fix per alcune missioni della campagna quindi bilanciamento e tutto allora in free rock che non è più ottenibile si cazzi cioè nel senso usi che questa si chiama sonno leggero una missione 12 che sarebbe che poi c'è un esempio di campsite che parte da da qui e fa tutta una fila di sezione di vingalge per arrivare a un guardiano tu lo devi fermare in rock presumo che servisse per trasportare gli abitanti da una zona all'altra perché tu non stai nella stessa zona dei vingaggi ma alla fine basta che usi il potere della sabbia dove porti i tuoi abitanti da qui a qui costruisci le torri le mura e li ammazzi basta cioè pure che lo togli vabbè questo è importante che la missione 18 a medio era un incubo a standard era troppo facile cioè qualcosa non andava e quindi hanno fatto dei bilanciamenti significativi per la missione 18 che è una missione di Chirone che deve prendere una cosa da una tamerice ed è importantissimo poi in età di rock si fa in 75 secondi non più in 60 e in età mitica in 120 secondi non più in 90 vabbè pfff potevano anche mettere vabbè 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 va niente mmm questo ci può stare questo no qua sono 30 secondi buoni qua sono 15 potevi anche fare 20 e 15 tanto alla fine raggiunta ne dà ma va bene così ma va bene così town center restita del center accoratezzo ha aumentato a 1 ok in danno dei centri città a 12 mentre i centri città a 15 no i centri cittadenni a 15 i centri città i centri città vabbè ah ok ok gli alberi hanno aumentato di 50 la legna che si trovano all'interno non è affatto male gli animali i cacciabili il nuovo stato di decadimento non è più il 0.3 non perdono il 0.3 di cibo al secondo ma il 0.2 ci costa ragazzi vi ho fatto vedere vi ho fatto vedere quella mod che è quel video la parte di video che è stato registrato l'11 settembre poi ieri ho fatto vedere l'editor e oggi faccio vedere update quindi è un video in cui ci hanno scontato ecco un video per per dire che ci stanno ascoltando la community è presente è forte e sono molto contento di questo ragazzi il video può finire qua noi ci vediamo su un prossimo ciao ragazzi ciao